Bentornati tutti teorici, oggi senza Seekwulf. Eh, finalmente senza Seekwulf, la prossima volta mancherò io perché una volta non c'è stato tutto. Facciamo una volta per uno, facciamo. Oggi c'è la puntata con più ascolti perché mancherà Seekwulf, ospite di oggi Massimo Carrera. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi, parleremo con Massimo ovviamente di tutta la sua carriera. Posso farla io, la prima domanda? Se proprio insisti, dai. Visto che poi tratteremo più a lungo argomenti, Juventus, Atalanta, Bari, le squadre più importanti dove ha giocato, io voglio partire alle origini della tua carriera perché guardando un pochettino la tua storia, io avevo rimosso, mi ero completamente dimenticato, una tua avventura romagnola al Russi. Come sei finito al Russi? Sono finito perché giocavo nella processione interregionale e quell'anno c'era il militare. Ho fatto il militare a Ravenna e quindi hanno trovato questa squadra che mi ha dato la possibilità, nonostante facessi il militare, di giocare. E quindi ho continuato a giocare. E che ricordi hai di questa tua esperienza romagnola? È stata una bella esperienza perché è la prima volta che andavo lontano da casa, quindi anche se ero a militare, è stata una bella esperienza perché ho conosciuto tanti ragazzi nuovi che magari avevano già giocato in categorie più importanti e quindi mi hanno aiutato nella crescita. Tu devi sapere che sei in mezzo, ci chiamano tutti e due Luca, ma siamo gli opposti a parte il nome perché Juve, Inter, lui è romagnolo, io sono emiliano, quindi proprio gli opposti. È vero, è vero. Gli opposti in assoluto. Invece io voglio che sia tu a raccontarmelo. A me piace l'autopresentazione dell'ospite perché sai, solitamente due o tre cose si sanno sempre, invece a me piace sapere l'ospite come si sente in questo momento storico, quindi facci sapere un po'. Ma io ho iniziato a giocare a sei anni, a sette anni all'oratorio, quindi nel distesso San Giovanni dove io sono cresciuto e poi da lì sono andato alla Pro Sesto nel settore giovanile, ho fatto dai pulcini fino a dire in promozione a sedici anni. Oh però. A sedici anni che ho in promozione, la prima prima che ho giocato ho marcato Pierino Prati che giocava nella Padernese. Pronti Liva. Pronti Liva e quindi poi è stato un po' l'inizio. Dopo dopo sono andato a Russi, poi sono tornato da Russi e sono andato a Alessandria e da lì è iniziata la mia carriera. Quindi dopo l'Alessandria sono andato a Bari, sono andato cinque anni a Bari, bellissimo perché sono stato ministro, ho vinto il campionato di B, quindi poi giocare al sud c'è un entusiasmo particolare, no? Dopo lì ho avuto la fortuna, sono riuscito, grazie alle prestazioni fatte in quei cinque anni, ad andare nella squadra di cui io sono tifosi, quindi era la Juventus. Ho finalmente uno juventino a tutti i teorici ce lo siamo portati, perché qua era sempre E quindi era grande soddisfazione, è arrivato alla Juve, è una squadra che è abituata a vincere, quindi con grandi campioni e quindi mi sono tolto tutta la soddisfazione, ho vinto quello che c'era da vincere. Ti mancavano due trofei, no? Perché si è andato via la Supercoppa Europea, però mi sono tolto la mia soddisfazione. Ah te lo credo. Dopo cinque anni alla Juve sono andato a Bergamo, ho fatto sette anni a Bergamo, dove tuttora vivo, perché mi sono fermato lì, e ho fatto sette anni importanti da capitano, e poi dopo sono andato a Napoli, a Treviso, e poi dopo ho chiuso la carriera a Bercelli in C2, ho fatto tre anni in C2, finché in fisico ho detto basta, basta, è meglio che smetti. A che età? A 44. Ah però, insomma ci stava bene. No, no, alla mattina non ci vado a camminare, i dolori, le caviglie e tutto, è meglio preservare il resto. Si è andato anche oltre, forse, lo standard. Si è andato anche oltre, si, si. Quindi quando c'è Juventus-Atalanta, che diciamo che sono state le squadre più importanti nella tua carriera, il cuore è diviso o spende un po' di tempo? No, il cuore è diviso, però a Juve, sempre Juve, sempre Juve. Ti volevo fare questa domanda qui, da calciatore, che ha giocato in tantissimi stadi, c'era uno stadio in particolare, immagino anche San Siro, però facciamo non San Siro, c'era uno stadio particolare in Italia che quando giocavi lì ti dava un brivido, un'adrenalina particolare. Beh, se vediamo San Siro, l'altro che può essere in un altro stadio, può essere quello l'olimpico di Roma. È Roma. Sì, quando giocavamo con la Juve, quando i partiti importanti era sempre pieno e sia con la Roma che con la Lazio, se il tifo si fa sentire, ti mette un po' di brividi. Di pressione. No, pressione no, perché si è abitua ad giocare a quei livelli, però ti mette un po' di brividi perché il tifo è particolare. Adesso, quando la interista te lo voglio chiedere, quando con la maglia della Juve, giocavi contro l'Inter o contro il Milan, quale sentivi di più come, non lo so, come rivalità, come il giorno prima? C'era una delle due che ti… ad esempio io, da tifoso, sento più la partita con la Juve che con il Milan. Tu da giocatore sentivi più quella con l'Inter o con il Milan? No, io non avevo nessuno… Uguale. Per me era uguale perché erano due squadre forti da battere, quindi… Forse sicuramente quella che era un po' più così era la Fiorentina, perché c'era questo Astro con i tifosi. quindi… Era anche una bella Fiorentina… Eh sì sì, quindi era quella che era magari un po' più sentita anche dai tifosi, no? Io non ho segnato questa domanda, ma dato che abbiamo parlato di stadi, la faccio. e invece la prima l'Allianz, perché comunque tu eri già all'interno dello staff, io c'ero quella partita lì, l'esordio con il Parma 4-1, che cosa si respirava in quei giorni lì? Sì, c'era stato un cambio totale, perché è arrivato Antonio, io ero nello staff e quindi uno stadio nuovo e tutto, era uno stadio stupendo e lì abbiamo iniziato la nostra cavalcata, quindi… Ma ve l'aspettavate quell'estate lì voi di… No, non ce l'aspettavamo di essere così subito competitivi, avevamo iniziato il ritiro lavorando su delle idee che aveva Antonio, che poi ha cambiato in corsa… 4-4-2… Sì sì, perché lui giocava così, no? Quindi poi dopo in base ai giocatori che abbiamo avuto ha deciso di modellare la squadra, finché siamo arrivati al 3-5-2… A Napoli, no? Sì sì sì, a Napoli, sì a Napoli e da lì abbiamo fatto questo percorso, questa strada e abbiamo mangiato sempre facendo cose importanti, no? Anche perché tu comunque un trofeo d'allenatore della Juventus l'hai alzato… Sì sì, l'ho vinto… Ho avuto la fortuna tra virgolati di essere in panchina a Pechino Supercopano, quindi è andata bene, quindi sono stato 7-8 panchine per sostituire Antonio in quel periodo e non ho mai perso… Infatti guardavo stamattina le statistiche… Non ho mai perso… Rimarchiamolo… Tra l'altro una panchina del 2 di Champions a Londra con i campioni in carica del Chelsea… Sì, 2-2 l'hanno fatto… Quagliarella e lo Scars… Mamma mia che partito una cosa… Adesso ti faccio una domanda un po' più… Un giocatore, quando giocavi, uno di quelli con cui capitavano magari più spesso delle scarabucce in campo con cui c'era un po', non dico di antipatia, però lo sguardo un po' un attaccante avversario con cui magari quando beccavi quell'attaccante lì sapevi che erano un po' di… No, per quanto mi guarda… C'era una storia tese, diciamo… Per quanto mi guarda no, perché mi sono sempre comportato alla stessa maniera con tutti gli attaccanti che ho incontrato. Gli ho incontrati forti da UEA, Van Basten, Ronaldo, Karl Heinze Lider… Ti sei divertito? Mi sono divertito qualche volta… Qualche volta… Qualche volta… Altre volte un po' un po' meno… Invece quello che notavo c'era quando c'era Juventus-Milan che c'era Jürgen Köhler contro Van Basten che si picchiavano… Di brutto… Di brutto perché… Stai, Germania, Olanda… Mamma mia… Ma Köhler era uno cattivo, ma anche Van Basten si faceva rispettare… Storie tese… Storie tese tra loro due… Io vado alla Champions perché tuttora purtroppo sei uno di quelli che ha vinto l'ultima Champions della Juve… Io avevo neanche quattro anni all'epoca… Però tu la finale non eri… No, non ero… Come l'hai vissuta? No, l'ho vissuta da tifoso… Da tifoso! Tifoso però a bordo campo, quindi… Insomma è stata una grande cavalcata anche quella perché… Con Lippi che è arrivato Lippi ha fatto una squadra che poi dopo si è dimostrata grande… Eh sì… E ha continuato poi negli anni, però ha perso delle finali… Però quella volta siamo riusciti ad arrivare fino in fondo e a vincere contro l'Ajax che non era… In quei tempi era una squadra molto forte… E vedendola dopo perché se non sbaglio quella è l'ultima partita che hai fatto con la maglia della Juventus… E comunque la Juve gli altri due anni è andata sempre in finale di Coppa dei Campioni senza riuscire a vincerla… Da fuori come la vedevi questa cosa? No… Purtroppo le finali sono così… È una partita secca… Dipende da come ci arrivi sia fisicamente sia… Mentalmente… Mentalmente… Quindi… Erano tutte alla portata per vincere ancora… Soltanto che purtroppo nel calcio uno più uno non fa mai due… Eh abbiamo visto anche l'altra sera… Non è ancora troppo fresca… Ne parliamo nel prossimo episodio… Tornando al discorso Champions… Tornando al discorso Champions-Juventus… Che da interista sempre con poco entusiasmo… Anzi… Però io quando penso alla Champions della Juventus… Mi viene in mente… L'immagine che mi viene in mente Gianluca Vialli… Che ricordo hai di Gianluca Vialli? Era un leader… Era un leader per lui quando è arrivato dalla Sampdoria… Ha aiutato noi che eravamo già lì… Quindi con la sua esperienza… E si è messo a disposizione tutti… Ci dava consigli… Mi ricordo che mi diceva come marcare gli attaccanti… Volevo vedere la postura del corpo che soffriva l'attaccante… Ti dava consigli… Poi si fermava anche a fine allenamento a calciare in porta… Era un professionista… Ma soprattutto era… Era un grande signore… Era leader… Era leader vero… E quelle state lì… Dopo il primo scudetto… In cui arrivano e ti dicono… Bene… Adesso la Juve è la Lenite… Come se si respirava in quei giorni lì di Juve… Ma è successo tutto per caso… Tutto per caso… Perché… Non era neanche in considerazione… Perché io dovesse andare in panchina… Perché mi sa che avevano… Prese in considerazione… Baroni… Che in quel periodo era allenatore della primavera… Ok… Quindi… Girava queste voci… Poi dopo si andava a fare l'amichevole a Salerno… Contro Sport in Lisbona… Prima di… E arriva tanto… Guarda che… Tocca a te… Vai in panchina… Senza di… Senza avvisarmi da niente… Io l'ho fatto in panchina… Che ho cercato di seguire le istruzioni… Che mi trovavano dall'alto… Antonio… Cercavi la telecamera nascosta… Pensavi a scherzi a parte… Pensavi a essere sicuro… Perché così da niente… Non aspettavo neanche… Perché non si faceva il mio nome… Avevi già il patentino all'epoca… Sì… Avevi già il patentino… Sì… Ma Conte è sempre così… Cattoso… Sempre così… Arrabbiato… Sempre così… Perché… Noi lo vediamo… Sembra… È quella persona… Ipergrintosa… Però sembra sempre anche un po' arrabbiato… Sembra sempre un po'… Ma durante le partite… Durante gli allenamenti… Perché è competitivo… Come sono io… Come eravamo in campo… Quindi… Però fuori dal campo… Ti assicuro che è una persona… Meravigliosa… Si sta bene… In compagnia… Non si scherza… Si ride… È un'altra persona… Da interista… È uno di quelli… Che ho sofferto di più… Quando giocavo… Comunque io non sono un ragazzino… Ho 43 anni… Quindi i vostri anni… Me li ricordo tutti… Li ho vissuti… Capitano della Juventus… Udine 5 maggio… Mi ricordo… L'ho sofferto molto… L'ho sofferto… A tal punto… A tal punto… L'ho sofferto… Da… Non essermelo goduto neanche troppo… Davvero? Non te lo sei goduto? Perché? Perché aveva passato la Juventino… Capitano della Juventus… Non lo so… Non lo so… Cioè per dire… Se tu mi dici… Tanti giocatori della Juve… Che… Anche se hanno vinto tanto… Tu mi dici… Del Piero… Cosa gli dici? No… Se incontri del Piero per la strada… Io… Ti chiedi la foto… Gli do la mano… Cosa… Cioè per me… È come… Zanetti… Come Maldini… Con Conte… Ho sempre avuto delle difficoltà… Delle difficoltà… Quindi… Per questo che ti chiedo… Magari nel privato… È un po' diverso… No… Nel privato… È tutta persona… Però nel lavoro… È molto competitivo… Molto esigente… Sia con se stesso… Sia con lo staff… E con i giocatori… Quindi… Poi… I risultati si vedono… Nel nostro mondo… Purtroppo è così… Di essere competitivo… E non lasciare niente a casa… E se no… I giocatori ti mangiano in testa… Quindi… Sì… Quello è vero… Quello è vero… Torniamo al lavoro allora… Io ho due stati di cui voglio parlare con te… Vabbè… La prima… Lo sai già… Dove andiamo… Il 15 luglio 2014… Mi spieghi… Quelle ore… Perché io… Me le ricordo come se fosse oggi… Eh… Cioè… Cosa è successo… Il 14 iniziano il ritiro… Il 15 le dimissioni… Sì… 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 Noi ci siamo trovati a Vinovo… Perché… C'era ancora a Vinovo… Quindi… Per iniziare la stagione… Allora… Antonio… Ci ha convocato in riunione… Ha detto… Ragazzi… Io… Ma quel giorno lì proprio… Sì… Cioè… Non era uscito niente… No… Bomba è questa… Siamo andati la sera in ritiro… Perché eravamo in ritiro… Però… Lui era… Già deciso di andare via… Quindi siamo stati in una sera in ritiro… Poi il giorno dopo… Come l'avete presa… No… Non l'hai presa… Sicuramente… Non benissimo… Eh… Cioè… Eravamo spiazzati… Non sapevamo neanche il motivo… Per quello… Che non si sa… Che… Che lo sa solo lui… Eh… E siccome… Lui non l'ha mai detto… Nessuno gliel'ha mai chiesto… Quindi… Quindi pensi che se qualcuno glielo andrà a chiedere un giorno… Potrà o…? No… No… Insomma… Sicuramente… Penso di sì… Sì… Prossimo… Qualcuno vicino della lui sa cosa è successo… Sì… Però magari è meglio evitare di andarsi a scontrare su certe cose… Che magari lui non ha piacere a dire… Certo… Il Twitter della Juve… Tipo un mese prima… Scrisse… Allenatore per la prossima stagione… Antonio Conti… Cioè era proprio confermatissimo… Sì… 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 Perché… Perché era quella la strada… Poi dopo… Successa questa bomba… Però il mese dopo… Però il mese dopo… Grazie a Dio… Ne siamo andati in nazionale… Eh… Perché io… Io c'ero anche… Quando abbiamo giocato Italia-Belgio… A Lione abbiamo giocato… Quella è stata lì? Non è stata… Quella è stata lì… Vabbè… Passare… Dalla squadra di club alla nazionale… È tutta altra roba… Perché hai… Poco tempo per preparare le partite… Si andava in giro a vedere i giocatori… Anche se… Tante partite andavi a vedere… C'era un italiano… Su 22 giocatori… Quindi… Era un po' complicato… Come adesso per Mancini… Fare la selezione di giocatori… No… Però è stata… È stata una bella esperienza anche quella… Perché siamo riusciti a creare… Un gruppo… Una famiglia… Dove tutti giocavano… Per l'Italia… Non per se stessi… Quindi… Abbiamo… Riportato la gente a innamorarsi dell'Italia… Facendo delle cose… Belle… Giocando bene… Un buon calcio… Vincendo con delle squadre importanti… Come la Spagna… Controvergione… Quindi… Pensa… Quello sia stato un gran lavoro… Eh ma… Adesso io dico una cosa che… Ci sta che non dica tu… Magari… Non è neanche il tuo pensiero… Però io quando penso a quell'Italia lì… Rispetto a tante altre… A livello di nomi… Meno nomi… Eppure… Più rendita… Cioè… Lì è stato proprio creato un insieme di… Sì sì… Era una squadra fatta di… Non di non… Però con gente che ha voglia di… Di dimostrare… Di dimostrare… Di seguire quello che… Che voleva il allenatore… E quindi… Erano tutti a disposizione… Ed è andato tutti l'anima… Per… Per far succedere quello che è successo… Certo… Venendo al discorso allenatori… Questa è una domanda che mi piace sempre fare ai calciatori… Perché delle volte si scoprono degli altarini… Si scoprono… Un allenatore… Che quando giocavi… Ti ha dato tanto… Forse… Quello che forse ti ha dato di più… È un allenatore… Magari se c'è stato… Nella tua carriera… Con cui… Magari tutto sto gran feeling… Non c'è stato… Spito così… Spito che è il bastardo di due… Secondo te… È lui… È stato… È stato… È stato… È stato… È stato carino… È stato quello che… È… Che… 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 Che mi ha dato tanto… Ho sempre avuto un ottimo rapporto con tutti… L'unico… Forse… Che ho avuto… Non un… Un feeling perfetto… Era… Il long… Quando ero a Treviso… Ah… Quindi… Quindi… Non ho avuto un… Non… Non sei stato bene… Non sono stato bene… Non ho avuto un buon feeling… Eh beh c'è… Ogni calciatore c'è al suo secondo me… Nell'arco di una carriera capita per forza… L'allenatore con cui magari non c'è empatia… Ma a prescindere se giocavi non giocavi… Quindi non dipendeva se ti mettere in campo… Ok… Perché io non avevo sempre giocato titolare… Però… Proprio non c'era feeling… Allora prendo di attualità… Dato che ieri si è giocata… Eh… La finale playoff tra Bari e Cagliari… E sentivo Ragnieri che parlava di questa cosa… Nel pre-partita… Dicendo… Quelli che non giocano… Pensano sempre che l'allenatore ce li abbia con loro… Eh… O che non rendano abbastanza… Invece… A volte si tratta anche di meccanismi naturali… Certo… Di giocatori che si intendono talmente bene… E che devi fare quella scelta lì… Anche a discapito magari… Che so… Di uno schema di… No ma certo… Purtroppo… Adesso le squadre si sono fatte di 30 persone… Eh… Una volta ce ne erano 15… Quindi era molto più semplice… Però… Non è che un attore non fa giocare… Un giocatore perché gli stanti… Non fa giocare in base… In base alla partita… In base alla tattica… In base all'avversario… Quindi… Fa delle scelte ponderate… Che a volte… Sono giuste… A volte sono sbagliate… Però è sempre il campo… Che… Ma è una cosa che dice adesso… Lo dicevi anche prima… Adesso sei dall'altra parte… Sei stato dall'altra parte… Anche da allenatore… Non è una cosa che… Non è una cosa che… Non è una cosa che… Ripeto… Dipende sempre da allenatore che… Che feeling instaura nella squadra… Se c'è un rapporto vero… Quindi dove siamo tutti… Tutti uniti… Che nessuno gioca per se stesso… Quindi tutti giocano per… C'è un obiettivo comune… Un obiettivo comune… Come se… Si pensa a noi… Non a lì… Quindi quella è la cosa più importante… Dipende sempre da… Da quello che… L'allenatore riesce a instaurare… E a creare… In quel gruppo… Si, si, si… C'è stato… Vai… Sei stato anche in Russia… Com'è… A livello di tifo… A livello di coinvolgimento… Di tifosi… Il calcio russo… C'è molta passione… Si, si, si… Si, si… Ma il calcio più… Penso che il calcio sia uguale a qualsiasi parte… Si… I tifosi sono… Sono esigenti in qualsiasi parte… Che tu… In Italia, in Russia, in Giappone, in CIA… Quindi… L'obiettivo è quello, no? Io in Russia sono stato benissimo… I tifosi… Sono… Sono stati esemplari… Facevano il tifo alla squadra… Anche perché… In Russia… Non c'è questa… Tanta violenza… Se ne hai distato, no? Perché… C'è un regime molto severo… Quindi… Se succede qualcosa… Ti prendono… E ti mettono… Ti allontano… Diciamo che… Le pene ci sono, no? Come da noi… No, no, no… Le pene esistono… Quindi… Cosa succedeva? Che magari… Gli ultra… Si dà un appuntamento… Nella foresta… Delle partite… Si picchiavano… Si picchiavano lì… Se ci divertono così… Vabbè… Facciamo le loro battaglie lì… Però allo stadio… Non c'è mai stato niente… Che potesse mettere in pericolo… Gli altri spettatori… E vincere lì… Come è stato? Vincere è bello… Vincere è sempre bello… Sempre bello… Dopo 16 anni… Mi sono ritrovato… Ero partito come assistente di Alenicel… Ok… Per allenare la difesa… Perché il presidente voleva un allenatore italiano per la difesa… In quel periodo Antonio finita la nazionale è andato al Chelsea… E infatti volevo capire… C'era la possibilità di andare a Londra? È stata la scelta? No… Perché in quel momento Antonio ha detto che non sapeva se poteva portare tutti… Perché là c'era già lo staff… Se in Inghilterra erano i suoi uomini… Quindi… In quel momento mi è venuta questa proposta… Ok… E io ho accettato… Si sono accettato… E ho detto… Io vado lì… Faccio questo… Poi dopo ho avuto la fortuna… C'è rimasto male… C'è rimasto male che sei andato… No… È normale che dispiace… Dispiace quando distacchi da un gruppo di lavoro… Però lui ha capito… Perché lui non aveva le certezze di poter portare tutti… E quindi… E niente… Poi sono andato e sono arrivato come assistente… Dopo tre partite abbiamo perso… Siamo usciti dall'Europa League, no? Ok… E quindi da lì mi hanno andato via Lenice… Ma hanno chiesto se volevo fare io allenatore a Interim per due partite… E invece? E invece da lì sono partito… Ho vinto… Ho vinto il campionato dopo 16 anni… Poi ho vinto la Supercoppa… Ho mai vinto… Ah, mai vinta? La prima… La prima… Ho vinto io… È la tua Coppa la Supercoppa allora… Sì… E quindi dai… È stata una bella esperienza… Una bella esperienza… E come si riassembla una squadra dopo due settimi posti… Per portarla allo scolettore… La Juve di quest'anno è arrivata lì sulla carta… Non a livello di punti… Ma l'anno prossimo immagino che ci sarà una Juventus rimodellata forse verso il basso… Qual è il trucco per… Eh… Devi essere bravo a programmare… Non… Non voler vincere subito… Perché… Perché non è… Ripetono… Il calcio non è matematica… Cioè poi viene… Viene… Se poi viene… Viene… Però… Viene subito dopo tre anni che non vince… Non lo so… Non lo so… Ma qualsiasi squadra… Qualsiasi squadra se tu fai… Però… Anche le altre le grosse squadre quando… Quando hanno dei problemi devono ricostruire… Sì… E quindi devi… È normale che devi cercare di… Se la Juve devi cercare di essere sempre lì per vincere… Però… Deve essere un programma fatto per vincere tanto… Non subito… Sì… Non la scorciatoia ma… Ma il percorso giusto… Non come ha fatto il Milan che ha vinto uno scudetto… E basta… Diciamo così… Milan non era neanche partito secondo me… Però vinciò lo scudetto… Cioè… Eravate più forti voi… Secondo me… E come eravamo più forti noi… Secondo me… Sì… Ha vinto loro… Quindi bravi loro… Però te… Finisci nello staff di Antonio Conte… Però arriva la Juve prima… Un paio d'anni prima… Con un altro ruolo no? Sì… Sono arrivato due anni prima… Ero nel settore giovanile… Facevo responsabile… Quindi ho lavorato con i ragazzini… Che è bellissimo… Eh sì… Lavora con i bambini piccoli… C'è qualcuno a cui si è rimasto legato… Che magari ha fatto carriera in Serie A o… No vabbè… C'era… C'era Spinazzola in primavera… C'era… C'era ancora Spinazzola… Sì… Sì… In primavera… Però è bello… Il settore giovanile… È… 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 Quindi… Magari come comportamento… Come tante cose… Quindi… Riesci ancora… A dare… Aiutarli… Dargli delle dritte… Guarda… Posso fare una domanda… Mi collego un attimo solo a questa cosa qua… Perché sentivo Miretti che l'anno scorso parlava… Gli hanno chiesto… Ma perché hai scelto la Juventus… Famiglia Juventina sempre… Però quando c'era da scegliere… Toro Juve le due proposte… La Juve aveva il pulmino… E dato che i miei genitori lavoravano… Mi veniva a prendere a casa e mi riportava indietro… Cioè… Che concezione incredibile è… Un calciatore che dice una roba… È pesante… Perché noi tifosi… Da fuori queste cose non… Sì sì… Penso che… Era… Era più… Comodo… Comodo… Andare a Juventus… Perché se no… Magari… Avrebbe dovuto cambiare squadra… Pensa a te… Ok… Questa domanda te la faccio… Da tifoso della Juve… Come? Come non sei… Togliti… No… Da tifoso della Juve… Ah… Mi ero preoccupato un attimo… No… Quindi togli i panni dell'ex giocatore… Dell'allenatore… La Juventus quest'anno sappiamo che ha avuto… Una stagione travagliata… Con tante questioni… Soprattutto… Extracampo… Quindi… C'è chi dice… Che si poteva fare di più… C'è chi dice che comunque… Con tutte le situazioni extracampo… Ci sono state… Anche la squadra… Ne ha risentito… E quindi… Ha pagato… Un po' tutto quello che è successo… Tu… Da tifoso della Juve… Pensi che… La stagione della Juve… Poteva essere anche migliore… O è stato fatto il massimo… Secondo te… In risultati sportivi… No… Io penso… Poteva essere molto migliore… Sicuramente… Anche perché la squadra era costruita… Una buona squadra… Con giocatori di valore… Quindi… Hanno perso… Tanti punti… Con le squadre piccole… Ma come ha fatto anche tutti… Solo Napoli è stato continuo… Infatti ha vinto con tanti punti… Le altre squadre hanno perso tutte… Con le squadre piccole… Ma penso che la Juve… Poteva fare molto… Molto di più… A parte tutti i problemi… Che ha avuto fuori dal campo… Però… Soprattutto nella prima parte… Aveva le qualità… Quando i problemi… Ancora non si erano palesati… In Champions League… Aveva le qualità… Per poter fare molto di più… Eh… Dato che parliamo della Juve di quest'anno… C'è un nome nella Juve di quest'anno… Di un giocatore… Che avete svezzato voi… Che è quello di Paul Pogba… Mi racconti… Perché io me lo ricordo… Io ero… E ho fatto due anni di abbonamento… Il secondo e il terzo… Quindi le tue partite le viste tutte in casa… Da allenatore… E Pogba è stata una sorpresa… Grossa… Grossissima… Voi quando l'avete visto arrivare in campo… La prima volta… Si vedeva già negli allenamenti… Che era… Che era portato… Eh… Dico in allenamento… Lo vedi dici… Aveva qualità… E quindi poi da lì era sempre giocato… E… Quegli anni lì era… È stato devastante… Perché… Faceva gore… Come era la palla… Faceva assist… E quindi… Presenza fisica… Stava sempre bene fisicamente… Stava sempre bene… Stava sempre bene… E invece adesso… E' stato un valore aggiunto per la squadra… Ma ve lo aspettavate così forte? No… No… Ok… Non ce l'aspettavamo così… 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 Determinante… Per le delle partite… Per la posizione in campo che giocava… Invece quello… Giocando 3-5-2 da mezzala… Quello era il suo ruolo perfetto… Perché si inseriva… Dopo però… Perché all'inizio… Se mi ricordo bene… Magari me lo smentisci… Era stato preso come vice Pirlo… All'inizio… Inizio… Davanti alla difesa… Forse… No… No… Era preso come mezzala… Sì… Come mezzala… Quindi… Perché Pirlo… Era lui… Era Pirlo… Era lui… Quindi… Faro della squadra… Era lui… Quindi… Abbiamo… Ha costruito Antonio… La squadra intorno a Pirlo… È stato Pirlo… Quindi l'ago della bilancia… No? A cambiare tutto… Sì… Perché… Antonio voleva giocare… Giocando 4-4-2… 4-2-4 come giocava… Cioè… Pirlo con un altro mediano… Marchesio… Marchesio all'inizio… Non era molto… Equilibrata la squadra… Quindi… Pogba… Provando… Si è arrivato al centrocampo a tre… Dove… Dove… Con Marchesio da una parte… Pogba dall'altra… E Pirlo… Pirlo… Bastava che tu… Vidale è arrivato dopo… No… Pogba è arrivato dopo… Ma c'era anche Vidale… C'era anche Vidale… Primo anno… Primo anno Pogba non c'era… Ok… C'era… E io lì che volevo arrivare… No… Dopo c'era… C'era l'imbalazzo della scelta… Avendolo… Pirlo… Pirlo era… Ah beh… Ma poi c'era Pogba di… Anche anche Vidale… Quel periodo era… Devastante… Perché alla fine del secondo anno… Arriviamo a giocare con Marchesio… Dietro… Matri… O Vucic… Sì sì… E' lì che volevo arrivare… Avendolo avuto anche all'Inter… Vidale… Diciamo che… Alla Juve ha giocato in un altro momento della carriera… All'Inter è arrivato un po'… Alla fine… Come era Vidale… Perché… Uno l'idea che ha di Vidale è sempre quello… Festaiolo… Un po' fuori dal campo… Un po'… Cioè… Com'è… Com'è Vidale… Vidale in poche parole… Descrizione di… Tema… Stai già ridendo… Vidale… Vidale… Arturo Vidale… È un po' loco… È loco… Però… A parte la sua vita privata… Che… Uno può fare quello che vuole… In campo… In campo era… Devastante… Lui poteva fare le serate… Poteva fare… Tornare a casa alle 5… Dormire… Poi quando c'era lamento… Era il primo in tutte le cose… Cioè… Dava… Sì… Atleticamente… Poi alla certetà la paghi… Eh… Sicuramente… Quello… Quello che magari tanti non capiscono… Finché c'è… L'età giovane… Il fisico… Riesci a sopportare anche queste cose qua… Però… Sì… Giochi bene lo stesso… Però duri meno… Certo… Quindi… È una scelta che uno deve fare… Un'altra… Adesso io… C'ho tutti i nomi singoli… Quindi preparati… Che sono tutte domande sui singoli… Un calciatore che… È sempre stato… Odio e amore… In senso ovviamente sempre positivo… Era Vucinic… Perché Vucinic aveva l'impressione… Che quando era in giornata… Il più forte di tutti… Sì… Poi c'erano delle volte che… Dicevi… Grande grande talento anche lui… Perché aveva le qualità… E l'ha dimostrato… Santo che era molto… Non era molto continuo… Eh… Anche voi la sentivate questa cosa… Sì… Sì… Si vedevano… Però… Lo dovevi prendere così… Quindi… Sapevi che… C'erano delle partite che ti poteva dare… Un genio… Un genio… E delle partite che magari… Non ti davano a mano… Però… Allora… Tornando a Vucinic… Eh… Esatto… Quella volta che è saltato lo scambio con Guarini… Che… Sembrava che era tutto fatto… Beh… Vi ride però… Gli piace… Era tutto fatto… Dai… Poi ci fu una merda sommossa popolare… Salto tutto… Eh… No… Insomma… Questo non so… Il mercato non so… Non ci credo… Eh… No… Ti giuro… No… Si sapeva… Dai… Si leggeva più che altro… Si leggeva… Lo diceva… Sembrava tutto fatto… Sembrava… Io l'avevi fatto… Eh… Ma lì per lì… Noi… Quei Guarini non lo supportavamo… Molti interisti lo amavano… Ma per me era uno che campava con due gol all'anno… Azzeccava due tiri da fuori aria all'anno… E campava con quei due tiri tutto l'anno… No… Però era un buon giocatore… Eh sì… No… Si dai… No… Scalso no… Non dico scarso… Però tra Pomba, Marchisio Vidal e Pirlo… Dove lo mettevi dopo… Non lo mettevi… Non ci poteva stare… Vedi… La risposta l'abbiamo avuta alla fine… Abbiamo raschiato… Invece il tuo… Il compagno di reparto con cui ti trovavi meglio… Quello che poi poi dicevi… Oh… Quando gioco con lui… So che… Ci capiamo proprio senza… Senza dirci le cose… Lui copre meglio… Copro lui… Mi sono trovato benissimo con Massimo Paganini… Ah… All'Atalanta… Ah… Ex-interesse… Sì sì sì… Abbiamo giocato l'Atalanta assieme… Ed ero tranquillo… Perché io sapevo che se faceva una cosa… Non c'era… Non c'era… Non c'era… Non c'era… Eravamo molto affiatati… Molto uniti… In campo… Ma anche fuori dal campo… Ci frequentavamo… Però in campo… Sapevamo… Senza… Senza chiamarsi… Senza guardare… Quello che… Si intesa naturale… Si intesa proprio naturale… Mi racconti l'addio di Alex Del Piero… Che è il mio più grande rimpianto… Non esserci stato quello lì… Aspetta… Compleanno di mia madre… Mio padre non c'è… Perché è l'addio di Del Piero… Cioè… Per darti un'idea… 13 anni… È stato… È stato… Emozionante… Perché… Io Ale l'ho visto crescere… Che è arrivato alla Juve… Che va a 17 anni… 18… Quindi… Ho visto crescere… Tutto quello che ha fatto… Per la Juve… È stato emozionante… Perché… Nessuno poteva immaginare… La Juve… Senza Del Piero… In quel momento… Purtroppo… Nel calcio… È successo… Come è dato via… Zidane… Via Buffon… Quindi… Purtroppo il calcio… A volte non guarda in faccia queste cose… Però ogni tanto non ci pensi… Cioè… Io… Penso a quella stagione lì… E dico… Vabbè… Si è incastrata a qualsiasi cosa… Cioè… Le stelle proprio si sono inallineate… Prima stagione allo stadio… Prima stagione vostra… L'addio di Del Piero… Lo Scudetto… Cioè… Io si è mai perso… Perché non si è mai perso… Se non la finale di Coppa Italia… E tra l'altro… Purtroppo… Io sono… Emiliano era la sera del terremoto… Quindi non ho mai visto l'ultima partita di Del Piero… Con la maglia d'aiuto… Però si è incastrato tutto… Si si è incastrato tutto… Tutto perfetto… C'è da dire che… Una grossa mano ce l'ha dato il Milan… Perché era avanti… Eh… Eh… Quando ci siamo avvicinati… Che da 7 andiamo a 4… Poi a 1… E poi… E li avete detto ok… Vinciamo noi… Sì… No… Vinciamo noi… Non dobbiamo mollare… Perché loro possono… Possono perdere strada… Terreno… Punti… Quindi noi facciamo il nostro… Poi se loro sono bravi… A vincerle… Mi ricordo un po' l'Inter col Milan… Quando il Milan l'ha vinto l'ultimo Scudetto… Sì… Ma quel Milan lì era un Milan… Cioè… Ibra Robinho… Tiago Mott… Tiago Silva Nesta… Cioè… C'era chiunque… Tiago Silva Nesta… Penso che è stata la coppia più forte di… Difessori centrali… Tra l'altro quel 13 maggio salutano tutti anche nel Milan… Cioè… Quella giornata lì è storica… Perché si chiudono veramente dei capitoli di… Di storia… Di storia… Proprio… Tiago Silva Nesta clamorosa… Ma sai… Un difensore che non ha mai giocato nell'Inter… Che io avrei sempre voluto… Stam… Jeff Stam… Stam… Mamma mia… Stam quello lì… Perché è una bestia proprio… Quello lì era veramente grosso… Faceva paura… Quello faceva paura… Mamma mia… E Ronaldo invece il fenomeno… Eh… Come era a marcare… Come era a marcare il fenomeno… Era… Ma… In quel periodo lì era devastante… Perché poteva… Faceva qualsiasi cosa… Quindi… Erano i giocatori più forti che c'era in quel momento… Nello spogliatoio… Vi dicevate qualcosa… Ma come lo marchiamo… No… Ma no… Si preparavano gambe particolari… Ma è come adesso… Come adesso con Alan… Vi dicono tutti… Come si ferma… Come lo marcha… Come fai… Però mi ha dimostrato l'altra sera… C'era… Ma è stato molto bravo… Mi ha fatto vedere il pallone… Quindi poi dopo… Ci sono dei meccanismi… Che vanno al di là delle battute… No… Però… In quel periodo… Dico… In Italia c'erano attaccanti veramente forti… Perché c'era… C'era… C'era Ronaldo… Poi c'era… Dico… Basta… Era un altro… C'era… Arrivavano… C'era il periodo… All'inizio si parlano di Ronaldo… C'era il periodo dei tre stanieri… C'era solo tre stanieri… Però gli stanieri che arrivavano… Qualsiasi squadra… Che fosse Catania… Catanzaro… Erano giocatori importanti… C'è nostalgia di quel campionato… Delle sette sorelle… Di quando… Anche la Fiorentina… Il Parma… La Lazio… Tutti partivano per vincere con lo Scudetto… Eravamo il campionato più bello del mondo… Adesso… Adesso sta ritornando… Un po' si… Mi sembra che l'Inghilterra sia sempre un po'… Troppo più avanti… Come strutture… Siamo ancora lì con gli stadi noi… Con degli stadi mezzi fatiscenti alcuni… No no… Come strutture sì… Sono solamente avanti… Però stanno ritornando… Anche se… Abbiamo portato… Quattro squadre in finale… Con PESA Under 20… Era il mondiale… Però… E non siamo riusciti… Però è già importante arrivarci… Perché… Il percorso… Il percorso è stato fatto bene… Adesso ti sblocco il ricordo… Perché… No 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 no… Guarda… Perché… Alla Juve arriva Lucio… Ah sì… Vedi che non te lo ricordavi… Ma perché c'è l'altro… Io credo aver visto l'unica partita da titolare Lucio… Credo 45 minuti col Chievo Verona… Ha giocato 5-6 partite ha giocato… Ma… Da titolare credo… Sì poche… Quella è forse la super compa… È la super compa… È la super compa… È la super compa… È la super compa… Sì che ha fatto due errori… Quindi tu hai messo il titolare Lucio a Juve… Sì no era quello… No perché mi sa che non c'era… Che non c'era Giorgio che c'era fatto male in finale… Ma come è possibile che Lucio all'Inter abbia fatto così bene… È lì che volevo arrivare… È lì che volevo arrivare… Così importante per vincere il triplete… Poi va alla Juve… Mi ha ricordato un po' Vidic quando è andato dal Manchester all'Inter… Completamente bollito… Ma perché era un altro modo di giocare… C'è una difesa 4… Ti devi comportare in un modo… Ah dici che è stata la difesa 3… La difesa 3… Cioè sono meccanismi un po' diversi… Che faceva la… Il sinistro lui… Giocava a sinistra nella difesa 3 quindi… O faceva il centrale… E cambia da 3 a 4… Eh cambia… Ci sono… Dei movimenti diversi… Anche se poi alla fine si difende sempre a 4… Non è che… Però ci sono dei meccanismi molto… Molto diversi… Io mi ricordo… Lo stesso Skriniar… Quando è arrivato Conte… In primi tempi… È vero… Ha fatto fatica… Ha fatto fatica… Poi dopo ha imparato e… Ha fatto fatica… E lo stesso Bastoni… Secondo me è bravissimo a 3… Quando va in nazionale… Con Mancini… Gioca a 4… Non ha lo stesso rendimento… Eh perché… Tutto diverso… Anche noi quando abbiamo… Se abbiamo passato la difesa a 4… Con Barzaghi… Allora quando lo dico io nei video… Non capisco niente… Adesso che mi dà ragione Carrera… No ma… Adesso che mi dà ragione Carrera… Eh eh… Non capisco niente neanche adesso… Vi dovevo scolare… Te non ti amici niente… A prescindere… Vi dovevo scolare… Vi dovevo scolare… A prescindere… Vi dovevo scolare… Sì… Anche con Bonucci… Con la BBC… Abbiamo dovuto lavorare un po'… Perché anche loro erano abituati a… C'è Giorgio… Cioè… Perché Leo era bravissimo, perché Leo era un centrocampista, quindi aveva i piedi... Avevamo Leo che era un centrocampista, quindi la visione, i passaggi filtrati che dava il centrocampista. Poi c'era Giorgio che era quello che dava sicurezza perché era sempre aggressivo. E poi c'era Barzaglione, che lo chiamavano così, che era il tattico che era sempre il posto giusto. Io ho sempre detto che era il più sottovalutato e forse il più prezioso. Quando voi l'avete preso Barzagli, l'avete preso al Vosbus. Sì, 300 mila euro l'aveva comprato. Non era in un momento della carriera dove godeva di chissà quale consiglia, di sbocciato il ritardo. Però ti dico, sicuramente la difesa, l'intuizione di mettere la difesa a tre è stata la fortuna sia della Juve ma anche dei loro tre. Sulla difesa a tre devo dire una cosa, io come tantissime persone, come in quel periodo storico, quando gli allenatori italiani hanno iniziato a usare la difesa a tre, era una cosa che lasciava molta diffidenza. Io mi ricordo quando Gasperini venne all'Inter e provò a fare quella roba lì, non riuscì, non riuscì. E poi si diceva, insomma, non è un modulo europeo la difesa a tre, non è… invece adesso la fanno in tantissimi. Adesso tanti impostano a tre e difendono a quattro, che è diverso come concetto, cioè forse è un'evoluzione ulteriore, perché toglie un uomo dalla difesa, lo mette a centrocampo, un po' come ha fatto Guardiola. Sì, no, adesso ci sono tutte queste invenzioni. È un'evoluzione. Dipende sempre come la squadra avversaria, come ti viene a attaccare, no? Se tu giochi a quattro e fai scendere le centrocampiste per fare la difesa a tre, però a difesa a tre… Poi è un conto se giochi a cinque, è un conto se giochi a una difesa a tre, perché tu quando fai l'azione, noi quando giochiamo alla Juve con il 3-5-2, era sempre un 3-2-5. Eh, esatto. Eh sì. Te da allenatore invece adesso, i tuoi moduli utilizzati? Ma io l'ho utilizzato allo spattolo, sono arrivato che la squadra giocava a tre, quattro, tre, e poi dopo, in base ai giocatori che avevo, ho fatto sempre quattro, due, tre, uno. Ah, quindi te sei da una difesa a quattro comunque? No, ho fatto anche a difesa a tre, io in base ai giocatori che ho cerco di fargli il vestito più giusto ai giocatori, no? Però mi piace anche cambiare, in base alle partite, se vedi che puoi mettere in difficoltà una squadra, mi piace… Cioè sei meno schematico? Sì, sei molto meno schematico. Ok. Chi è l'allenatore emergente che ti piace di più? Adesso è il momento di… si parla tanto di De Zerbi. Penso che sia lui. Anche Tiago Motta sta venendo fuori? Poi penso che De Zerbi abbia fatto bene, sta facendo bene anche l'Inghilterra, quindi penso che sia lui. Poi c'è anche Italiano. Italiano, Tiago Motta. Sì, ci sono, ci sono. Sono tipo un Tiago Motta, secondo te, è già pronto per una big o gli consiglieresti ancora un anno o due a Bologna? Dipende sempre poi dopo come… dai risultati. Eh sì. Perché c'è gente… Gira che rigira. Dipende da quello, pronto o non pronto, ci sono allenatori che non hanno mai allenato e vanno e vincono. Un allenatore che ha allenato 500 panchine vanno e non vincono. Quindi poi è tutto, è tutto il tempo che trovo. Ho visto Pallardino, quindi la Marazza, ho visto anche al Genoa, no? L'altro… Il Girardino. Il Girardino, il Genoa, quindi andava a Primavera, quindi ha portato lo Genoa in Serie A. Quindi sono meccanismi che si incastrano… Anche in Zaghi, la Rosso, il bene della Primavera, la Lazio, bene. Quindi sì. Io ti uso come cartina di torna sole per capire se i miei pensieri all'epoca erano giusti o sbagliati. Ma quando compriamo Isle a Samoa, nello staff, c'era la convinzione che fosse Isle o Samoa quello più forte? Erano tutti e due forti. Erano tutti e due forti, perché davano continuità. Giocando 3-5-2 gli sterni devi cambiare. Poi ho giocato la partita con i due sterni. E quindi loro due erano due belle macchine da guerra. Perché Isle a Samoa, secondo me, è stato un po' sottovalutato dalla tifosiera della Juve. Quando è stato preso è poi invece un rendimento altissimo. Sì, beh, sicuramente, sai, non avevano questo nome esaltante. Però in campo si sono fatti sentire che erano due giocatori importanti per quella squadra. E perché Isle poi non ha funzionato così bene? Perché? Non si sa. Non si sa. Perché purtroppo magari... Locco, anche lui. No, 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 no. Però magari a Samoa era più bravo a giocare nella difesa 5. Ah, ok. Isle magari era meno abituato. Quindi con diversi modi di interpretare il ruolo. Ho capito. E poi invece Atene e Bari, che sono le altre tue tappe? Sì, Atene sono andato, tornato alla Russia, sono arrivato. Abbiamo fatto, ho fatto anche lì un buon campionato. Perché sono arrivati i terzi dietro Olimpia, cos'è il Pau, che era le squadre più importanti. Ho perso la finale di Coppa con Olimpia, cos'è. Non di Supercoppa, perché quella non l'avresti persa. No, quella no. Purtroppo no, dovevo vincere qualcosa per fare la Supercoppa. Però basta, dai. È stata una bella esperienza anche quella. Siamo riusciti a centrale di Girona dell'Europa League e quindi ho iniziato un percorso e poi dopo non si è concluso nel migliore dei modi. Anche se ero terzo quando sono stato esonerato. E adesso? Adesso sto aspettando, sto cercando di vedere se riesco a fare qualcosa, trovare qualche squadra. Qualche squadra, aspetto se sia qualcosa di interessante. Va bene. Ma una domanda, uno che è nella tua situazione attuale. Ok, aspetto di vedere se si muove qualcosa. Cosa guarda il progetto, la categoria, quanto può durare il contratto e quindi quanto tempo hai per lavorare, giovani, non giovani? Quanto tempo hai per lavorare? Sì, vabbè, questa è una domanda. Questa è una domanda che non c'entra, perché tu puoi fare un contratto di quattro anni. Cosa guardi in questo momento? Ma solamente il progetto, l'ambizione, il progetto e poi dopo la categoria fino a un certo punto. Perché magari poi ci sono squadre in Serie C che hanno dei progetti più interessanti di squadre che sono in Serie B. O magari che sono retrocesso. Quindi penso che quella cosa sia la prima cosa da guardare. La progettazione a lungo termine, non nel mediano. Pare che dovrebbe avere l'ultima domanda che forse racchiude anche un po' questi concetti. Quindi magari ti faccio anche, perché è cuore, sì, però è anche lavoro. Prima mi parlavi che comunque iniziai stata nella giovani della Juve. se dovessi ipoteticamente chiamarti oggi la Juve per la next gen, potrebbe essere un progetto che potresti ritenere interessante o preferiresti una squadra? No, no, potrebbe essere un progetto interessante. E vi piacerebbe lavorare con i ragazzi? Sì, sì, a me piace lavorare con i ragazzi, mi piace. E cosa ne pensi della next gen della Juve? Credi che sia stato un modo giusto? Ma penso che sia una cosa importante per questi ragazzi, perché a differenza dell'estero noi aspettiamo sempre i giocatori già pronti. C'è un po' più di coraggio che cercare di valorizzare il settore giovanile, perché di giocatori italiani ci sono. Qualcuno di quelli della Juve venuti su nella next gen che ritieni, secondo te, che ti piace di più almeno? Ma no, ma ci sono, Mireia, quelli che hanno giocato quest'anno penso che siano il frutto del lavoro fatto negli anni. Quindi penso che all'Atalanta lavorano benissimo con il settore giovanile. Il futuro è quello lì, è in Italia. Ma io penso che è normale che nel settore giovanile ci dovrebbero essere ex giocatori, per capire, per aiutare, o magari anche della stessa società, che sanno dare senso di appartenenza, che è la cosa più importante. È stata una bella puntata. Ah, ok. Pensavo di essere l'ultima domanda. È stata una bella puntata, senza Sikul, è andata via proprio bella, liscia, botte risposta. E se no c'è la parola anche della Roma. No, va bene. Ma non ci interessa. Grazie mille Massimo. Basta l'Inter. Basta l'Inter, basta. È stata anche di troppo, forse. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi. Alla prossima, ciao raga. Applauso.